E' importante liberarsi dalle preoccupazioni che intasano la mente e lo spirito. Chiedi con fede l'aiuto allo Spirito Santo affinché ti dia soprattutto il dono della sapienza. Con questo dono comincerai ad assaporare le cose divine, proverai più meraviglia per il creato e lo studio ti arrecherà pian piano la gioia della conoscenza anche se ti costerà della fatica. Oltre alla sapienza chiedi anche i doni dell'intelletto e della scienza. Abbiamo l'intelligenza perché siamo ad immagine e somiglianza di Dio e possediamo un'anima immortale. L'intelligenza ha il suo habitat nella possibilità di scelta che ci dona il libero arbitrio. Noi siamo destinati a raggiungere il massimo grado di libertà da condizionamenti e pregiudizi per poter essere altri dei, glorificando così il Creatore nella pienezza del nostro essere in Cristo.